Ciao ragazzi sono Mestix, Ado Video Production, oggi vi presento l'Harmonic Booster, pedale della Dark Glass Electronics. Non so se mi avete seguito su Instagram ma lì ho fatto già l'unboxing di questo pedale e anche un altro pedale che mi ha mandato sempre, la Dark Glass Electronics. Vi suggerisco di iscrivervi al mio canale Instagram che vedete il link in descrizione per poter seguire diciamo delle preview, delle anteprime su quello che andrò a fare su YouTube e anche qualcosetta in più. Diciamo che lì sono un po' più libero, posso postare in modo molto più veloce rispetto qua su YouTube. Quindi link in descrizione e seguitemi per non perdere nessun aggiornamento. Innanzitutto chi è la Dark Glass Electronics? È un'azienda finlandese che produce materiale per bassi elettrici, quindi solamente per basso. Possono essere amplificatori, preamplificatori, pedali, quindi compressori, distorsori e quant'altro solo per bassi elettrici. Mi hanno mandato questo pedale che è l'Harmonic Booster e vi voglio far vedere un po' che cosa c'è all'interno della scatola. Abbiamo questo libricino, una pubblicità in cui all'interno troviamo vari prodotti della Dark Glass Electronics, quindi tutti i loro pedali, tutto il loro catalogo. Quindi da qua potete vedere anche delle descrizioni per ogni pedale, quindi potete capire di cosa si tratta e potete andare a vedere maggiori informazioni sul loro sito. Poi abbiamo un altro libricino in cui è praticamente contenuto il manuale del pedale. Quindi vediamo che ci sono scritte le caratteristiche del nostro pedale, una mediata del pedale e poi diciamo una descrizione varia del pedale. All'interno è ancora contenuto un plettro Tortex di rigidità abbastanza elevata, quattro piedini che potete utilizzare nel vostro pedale per non farlo scivolare e poi abbiamo uno stickers con il logo della Dark Glass Electronics. Poi alla fine all'interno della scatola vediamo il pedale che ve lo tiro fuori. Tutti i pedali della Dark Glass Electronics hanno un seriale, infatti qua dietro vedete il seriale del mio pedale. Quindi è identificata tutta quanta la catena di montaggio, quindi tutta la storia del pedale che vi arriva a casa. Ma che cos'è questo harmonic booster? L'harmonic booster vediamo qua scritto Clean Bass Preamp, quindi è un preamplificatore per basso, abbastanza pulito come dice il nome. In effetti l'ho già provato e suona davvero in modo maniacale, bellissimo. Vediamo i controlli principali. Allora come tutti i preamplificatori abbiamo la nostra sezione di equalizzazione, quindi abbiamo la possibilità di andare a modificare i bassi con questo piccolo knob e gli alti con quest'altro knob. I medi invece si possono modificare con questi due controlli. Uno è praticamente il parametrico, quindi vado a decidere la mia media frequenza, quindi non è fissa, posso deciderla io e con questo invece andiamo a boostarla o a diminuirla, quindi a fare un sound tipo scoop. Allora come tutti i preamplificatori. . Allora andrione. Allora andrione. Grazie a tutti. Il Charakter è molto molto interessante perché permette di andare a cambiare il sound del basso, più che sound direi la plettrata del basso, perché può modificare la tonalità un po' più morbida, quindi smooth, del mio basso, oppure un po' più cattiva andando a sentire di più la plettrata. Sentiamo la differenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.